Passeggiando in bicicletta sul lungomare di Soverato abbiamo incontrato coach Leonardo Barbietti, l'allenatore della volle di Soverato. Buonasera coach, lei è arrivato in bicicletta mentre io sono arrivato in macchina, però il fiatone ce l'ho io. Sì no, devo dire che questo è un posto veramente fantastico, non solo Soverato ma anche i dintorni, perciò vado spesso in bicicletta, a piedi, è veramente un posto meraviglioso e perciò si vive a piedi e in bicicletta. Meglio di così non si può avere. E allora facciamo quattro passi insieme agli spettatori di S1 TV e io partirei dalla cosa, lei è di Castigliondadda e da questo momento le do del tu. Castigliondadda in provincia di Lodi che è il meridione della Lombardia, lei rispetta uno di Monza e Brianza e si sente un terrone. Sì sì, di fatti siamo a sud di Milano, è un piccolo paese, è molto carino, però diciamo che come clima non si può paragonare certo alla Calabria, da noi regna la nebbia e ce la teniamo, però comunque sono nato lì, ho la mia famiglia, ho i miei fratelli, ho iniziato lì a fare pallavolo nell'oratorio, perciò ho sempre un bel ricordo del mio paese. C'è il fatto che citi l'oratorio è una cosa che piace perché qui è Soverato, ci sono i Salesiari e c'è l'oratorio. Noi volevamo parlare un po' di lei, innanzitutto mare o montagna? Mi piacciono entrambi, io sono un amante dello sport, perciò vado a sciare d'inverno e d'estate vado in montagna, al mare scusate. Ho la fortuna poi di lavorare d'estate con le bambine, perciò organizziamo questi camp, queste attività ludiche e passo tutta l'estate al mare, devo dire che è molto bello, mi piacciono molto entrambi. Invece se la domanda dovesse essere, lei ama le scommesse, il fatto che un coach vincente come lei sia venuto a Soverato è una scommessa. Più che scommesse mi piacciono gli obiettivi e mi piacciono i risultati. Ho sempre pensato che per arrivare, il mio sogno era di allenare in Serie A, ma anzi forse all'inizio di Serie B, pensavo che non è la fortuna, non è se capiti, non è se sei al posto giusto, al momento giusto. Io ho sempre pensato che se avessi fatto dei risultati, l'anno dopo mi avrebbero dato una squadra di una categoria superiore. Io sono partito dalla terza divisione, sono arrivato in A1 ogni anno, ogni anno, vincendo sempre il campionato. Quello secondo me è quello che conta, perciò chi oggi allena, chi oggi inizia ad allenare deve ragionare così. È il risultato che ti fa fare il salto di qualità e non chissà che fortuna. Poi è logico che in questo mondo ci vuole anche una componente magari di fortuna, di trovare il giocatore giusto, di trovare l'ambiente giusto, quello sì. E il fatto di essere venuto qua per un obiettivo, cioè sinceramente sembra che al nord sia il più facile, no? Allora hai vinto tre volte al nord, allora ho detto bene, adesso vado in Calabria, voglio dimostrare a me stesso anche di poter fare qualcosa di buono qua. Ci stiamo arrivando, diciamo, non siamo al top ma non siamo neanche in basso, diciamo che siamo il 50-50. Però stiamo scivolando verso l'aspetto tecnico e quello lo lasciamo a Pietro Mosella. Piuttosto volevo dire, ai miei tempi chi faceva il cuoco era il cuoco e non era un master chef, chi faceva l'allenatore della volley non era un allenatore di calcio. Oggi invece voi siete richiestissimi anche per quanto riguarda tutto il coaching psicologico. Cioè Velasco è diventato ricco, più lavorando sui servizi che fa che nella pallavolo. Io penso che comunque quando fai questo lavoro, cioè di dirigere un gruppo di persone, uno staff e un gruppo di ragazze, sia simile, sia come gestire un'azienda, sia come gestire o perciò ci sono molte similitudini nel gruppo. Le dinamiche del gruppo penso che siano uguali da una squadra di calcio. Io ho avuto la fortuna di seguire a Montichiari, c'era il basket di A1, ho seguito il calcio, vado sempre a vedere anche gli altri allenatori per questo motivo, perché ci sono molte similitudini. Poi è l'aspetto tecnico, ma l'aspetto psicologico è simile. E una cosa che le ho già chiesto, ma che mi affascina sempre, e noi stiamo sfidando il signor Siciliano che oggi fa una prestazione memorabile camminando all'indietro, è questo. C'è un momento della partita di pallavolo in cui il coach chiama tutti intorno a sé per un minuto il timeout e deve dire le parole giuste per risolvere la situazione, perché di solito il timeout è in un momento di difficoltà. Ci riuscite sempre? No, ci si prova sempre, questo sì. Ecco, vorrei dire, tendenzialmente c'è un timeout tecnico dove si parla e un timeout psicologico, cioè dipende qual è il momento della partita. Ecco, perciò o uno o l'altro. Poi alcune volte si può parlare invece sia dell'aspetto psicologico che dell'aspetto tecnico. Lì sta a capire in quel momento qual è la situazione ideale, perché alcune volte dire troppe cose poi magari l'atleta non le percepisce. E l'altra cosa importante è sapere qual è la priorità. Cioè uno si sveglia la mattina, ne dico sempre ai miei giocatori, poi la fortuna di avere una sola psicologa, che deve dare una priorità. Io mi sveglio la mattina, vado al lavoro, vado e devo dire qual è la cosa più importante della mia giornata è questa. Qual è la seconda cosa importante e qual è la cosa meno importante che posso anche magari trascurare. Questo è nella comunicazione, nella preparazione della partita e nella preparazione di un atleta. Un atleta deve sapere qual è la cosa che effettivamente è più importante per lui ogni giorno. Questo secondo me vale per tutti gli sport, ma vale per la vita, visto che stiamo parlando della vita in generale. Siamo in sintonia, stavo appunto per dire vale proprio nella vita. Ora giriamo a destra e andiamo verso il mare. Ma come scelta di vita in generale, preferisce più una bella serata al caminetto o una serata all'umido come quel pescatore là in fondo che spera di pescare qualcosa e è a contatto col mare? Io adoro il mare e vi confesso che ho fatto certe sere d'inverno con la pila e passeggiavo anche al freddo perché mi piace tantissimo camminare, mi piace il contatto della natura ma perché è una cosa che ti rilascia tantissimo e questo soverato aiuta, aiuta molto. Andiamo un po' a scoprire qualcosa di più di Coach Barbieri. Secondo lei per essere felice felice. Quanti soldi le servirebbero? Ma io penso una mia... Il mio calcolo personale è un milione di euro. Io penso che innanzitutto uno deva sapere apprezzare quello che ha. È la cosa più importante. Logico che un minimo uno deve avere nella vita però penso che veramente il problema più grosso oggi anche dei giovani, anche delle atlete, che io ho avuto la fortuna di avere atlete anche molto ricche. È quello di sapere apprezzare quello che ha. Perciò oggi sono qua, io apprezzando ogni cosa, ogni respiro, ogni onda del mare di quello che è la Calabria e la voglio vivere al 100%. Perciò per me questo è il massimo in questo momento. Poi domani ho un'altra situazione, perciò partiamo sempre da una base così, quello che alcune volte anche i tifosi vogliono sempre qualcosa di più, anche i presidenti. Sempre fai uno vogliono due. È giusto l'ambizione. Però uno deve ogni tanto fermarsi, guardare quello che ha e deve dire io oggi sono contento perché sono felice, perché sono soverato, perché sto bene, perché c'è un'alimentazione bellissima. Perciò apprezziamo innanzitutto quello che noi abbiamo in questo momento. Poi come ho detto prima uno si sveglia la mattina e cerca sempre di migliorarsi, di migliorare qualcosa. Ma se uno passa la vita solo a cercare qualcosa che non avrà mai o qualcosa sempre di più, forse non riesce mai a godere delle proprie soddisfazioni e di quello che gli ha dato la vita. Ma che cos'è la felicità secondo lei? È questo, è saper apprezzare veramente quello che uno ha. Io ho conosciuto tante persone in questo mondo di atlete di ogni cultura, di ogni nazione, tanto parliamo di integrazione. Io ho avuto squadre in cui c'erano otto, nove giocatrici, facevano parte di tutto il mondo. In che lingua parlavate? Un po' l'inglese e piano piano ci si adattava. Ma non solo il colore della pelle o la nazione o la lingua, ma addirittura la religione. Perciò mi è capitato, avevo delle cinesi, di festeggiare il Natale cristiano, il Natale ortodosso perché avevamo delle bulgare e abbiamo festeggiato anche il Capodanno cinese che arrivava dopo. Perciò è stata, secondo me, quell'anno lì una situazione di integrazione, di cultura. Certe volte sento la gente fare delle morali. Ne avete anche vinto quell'anno, dove tanti festeggiamenti. Lo sento di fare delle morali, noi l'abbiamo vissuto quotidianamente. A un certo punto la ragazza mi ha dato un braccialetto rosso, la ragazza cinese, dicendo che all'anno della scimmia bisogna portarlo e noi portavamo tutto. Quando siamo stati a Loreto a giocare i play-off, loro non sapevano nulla e gli abbiamo spiegato in tre parole qual era la nostra cultura e loro l'hanno accettata, l'hanno apprezzata. Perciò penso che lo sport ti dà questo ed è qualcosa di straordinario. E poi, perché ci sono anche le nostre tre spettatrici, animale, colore e auto preferita, modello? L'animale è sicuramente gli animali da casa come sono i gatti o i cani perché qua è una deformazione professionale perché la mia compagna fa la vetrenaria. Perciò su quello non potevo. Sul colore sono abbastanza un classico, però dipende dai momenti. Quando sono le cose mie, è logico, preferisco il blu e il grigio. Quando vado a allenare con le bimbe è logico che il colore è qualcosa di fantastico perché la gioventù rispecchia il colore, rispecchia la vita, perciò teniamo colori vivaci. Lei attualmente allena una squadra femminile. Ha visto il film con Mel Gibson, se non vado errato, in cui lui capiva quello che pensava, anzi sentiva i pensieri delle donne e nel suo caso, anzi tuo, perché non le ho dato proprio il tu, sarebbe un vantaggio o uno svantaggio? Perché magari si sente pure, ah coach! Ma no, questo fa parte della vita. Io dico solo che le donne per la loro cultura, per la loro storia hanno una tenacia veramente superiore all'uomo. Facciamo un esempio sulla forza. La donna veramente per aggiungere un po' di forza al proprio fisico deve lavorare moltissimo. L'uomo nella sua indole ha già una muscolatura diversa. Questo è fisiologia. Perciò la donna deve sempre lavorare di più per ottenere. E nello sport devo dire che questo dà frutti perché c'è una grande tenacia. Se la donna si crede in qualcosa non la schiodi. L'uomo magari è un po' più malleabile nelle situazioni. Anche se penso che poi la gestione del gruppo, malgrado quello che dicono, per l'80% delle situazioni è molto simile. Noi non violiamo la privacy, però giusto per saperlo, coach Barbieri è stato contento o dispiaciuto dell'esito delle recentissime elezioni? No, io più che tutto valuto le persone, non tanto la politica in senso a livello di filosofia. Oramai penso che non ci sia più. Forse 30 anni fa c'era una politica dove c'era più una filosofia. Adesso mi sembra più delle persone che decidono di fare qualcosa per la collettività a prescindere da quello che è il colore. Certo che venendo qua uno della bassa padana è inevitabile che tutti mi parlano della Lega o via discorrendo, però è visto forse con più preoccupazione qua che da noi alla fine sono delle persone con delle ideologie e dei progetti che possono essere più o meno discutibili. Perciò preferisco valutare le persone per quello che fanno a prescindere dal loro colore politico. Perciò qua mi hanno detto che stanno lavorando benissimo, ma non so neanche di che partito sono. Costruiranno il palazzetto nuovo. Difatti, visto che lo fanno, io ho conosciuto il sindaco, ho conosciuto l'assessore, ci seguono, ci sono vicini e sinceramente se lei mi chiede di che partito sono, non lo so. Volevo chiedere un'altra cosa. Avvicinandosi leggermente alla volley, qui ne capiamo tutti di volley. Pensi a me che non so neanche dove sta il posto 4. Lei che invece ne capisce realmente, a volte non si morde le labbra? No, no, anzi è bello. Devo dire che il fatto che la gente vicino segue è sicuramente una cosa carina, perché questo fa parte dello spettacolo, fa parte del gioco, ci mancherebbe. Perciò benvenga la gente che segue la palla a volo, benvenga che critica la palla a volo, perché vuol dire che la seguono, vuol dire che la gente ci tiene. Logico che non bisogna eccedere, alcune volte vale nei palazzetti, vale negli stadio. Nell'offesa io l'unica cosa che non piace non è fischiare un atleta che fa parte del gioco, è magari l'offesa a livello personale, quello è l'unica cosa che mi dà fastidio. Per il resto ci sta che la gente se si perde ce l'ha con l'allenatore, ci mancherebbe. Se no non facciamo questo mestiere, l'importante è che mi dà solo fastidio quando sento l'offesa personale nei confronti di un atleta, ma che può essere nostro o l'avversario. Per il resto ci vuole anche un po' di folklore, un po' di gioia, ed è giusto viverlo. Qua è il top del calore e anche un po' della depressione. Cioè ci hanno un po' un'alternanza di un amore eccessivo e magari di un'eccessiva preoccupazione. Alcune volte magari un po' più di equilibrio, però diciamo a livello folcloristico è molto bello. Siamo quasi, lo dico per lei e anche per i tais spettatori, addirittura d'arrivo. Io l'ho vista negli occhi il giorno in cui si è perso in casa, se non vado errato male, 3 a 0. Però la vedo negli occhi costantemente con una grande disponibilità, una grande serenità. Ma quindi, e qui chiudete le orecchie ai bambini, anche lei a volte si incazza. Molto, molto. Devo dire che mi arrabbio, certe volte anche troppo, certe volte l'allenatore sbaglia. Ci mancherebbe, però alla fine sono quei 5 minuti dopo la partita. Di fatti tendo a non parlare mai, anche se invece il Presidente voglio, che lo chiamo sempre dopo la partita, avere magari un'oretta perché un altro consiglio che posso dare, sempre legando lavoro, legando tutto, che alcune volte noi abbiamo troppa fretta nella comunicazione. Cioè, siamo arrabbiati, scriviamo subito, mandiamo subito una mail. Cioè, abbiamo questa istintività che invece, se uno aspetta magari un'ora, non manderebbe quel messaggio, non scriverebbe quella cosa su Facebook. E questo diventa alcune volte un po' pericoloso, soprattutto per i giovani. E dico che stiamo molto attenti. Poi uno può scrivere quello che vuole, ma pensiamoci sempre un attimo. E allora, Coach Barbieri, anche se lo dimostra, è come me il cinquantenne. Quando è che si diventa vecchi? Ma guardi, è venuto a trovarmi mio padre che ha 87 anni e sta benissimo. Io penso che quello sia un po' una filosofia. Ecco, il vivere bene l'età che si ha senza avere rimpianti del passato e saper godere l'errore è quando uno non ha vissuto l'età giusta. Cioè, ha i vent'anni, ha fatto il ventenne e magari vuole tornare indietro. Io non voglio tornare indietro, voglio vivere bene i miei cinquant'anni e me li sto vivendo bene, ci mancherebbe. Allora, noi non possiamo fare altro che ringraziare, però se non siamo riusciti a dare un quadro dell'uomo Leonardo Barbieri, vuoi aggiungere qualcosa o siamo stati perfetti perché il giornalista è eccezionale? No, no, siete stati perfetti, devo dire che sono quello che sono e sono molto aperto, perciò non è difficile conoscermi. Penso che la gente di Soverato se ne sia accorta. Grazie, bocca al lupo. Che tipo di pizza mangeremo quando festeggeremo qualcosa di importante? Ah, sicuramente con i frutti di mare, visto dove siamo. Olanduia, a scelta.